Proprio in questi giorni ho deciso di presentare un'interrogazione che riguarda il porto di Pesero. Infatti voglio evidenziare che ritengo che sia urgente il dragaggio del porto, perché senza il dragaggio sono a rischio sia l'attività, cioè il lavoro delle imprese, delle attività di porto, quelle sportive, ma anche le attività ricreative. Dall'altra parte, oltre a chiedere un dragaggio in tempi rapidi, perché ritengo che questa sia la vera emergenza del porto di Pesero oggi, chiedo anche di accelerare rispetto alla vasca di colmata. Ricordo che per la vasca di colmata sono previste attualmente già 11 milioni di euro che sono stati stanziati dal Ministero, oltre alla definizione del piano del porto. Queste cose sono importanti anche per dare certezza ai tanti imprenditori che hanno deciso di investire nel corso degli anni nel porto di Pesero, ma anche per coloro che decideranno di farlo per il futuro. Il porto di Pesero è diventato sempre più importante, devo dire che negli ultimi anni sono stati fatti lavori anche di riqualificazione veramente notevoli, però devo dire che senza il dragaggio tutte queste attività, tutti questi investimenti rischiano di essere messi a rischio. Quindi se dovessi dare una priorità, devo dire che prima di tutto è necessario pensare in tempi rapidi a un dragaggio e portando avanti contemporaneamente sia il progetto della vasca di colmata, per cui appunto sono già stati stanziati 11 milioni di euro, e ovviamente il piano del porto. Il piano del porto è importante anche perché le varie attività economiche che hanno deciso appunto di rimanere nel porto di Pesero hanno bisogno di prospettive e occorre tutte le attività culturali, commerciali, turistiche, industriali hanno bisogno di certezze rispetto a quello che possono o non possono fare per poter portare avanti la propria attività. Dall'altra parte sono stati stanziati anche 500 mila euro, risorse importanti per l'installazione delle colonnine elettriche nel porto. Anche questo è un aspetto importante, soprattutto dal punto di vista ambientale, perché consentirebbe con quelle imbarcazioni che attualmente ormeggiano nel porto di Pesero e che devono, come dire, tenere i motori accesi per produrre energia, di poter spegnere appunto i motori e di utilizzare appunto le colonnine elettriche.